allora oggi un po un po incazzata un po nervosa allora io volevo parlarvi di celentano perché dice che c'entra celentano non c'entra niente però per me è una persona a porco dire la madonna di cristo dove ho messo gli occhiali che non ci vedi più aspettate un attimo mi devo mettere gli occhiali gli occhiali addio mi fa male pur la testa fama la testa il riservo da troppi cazzotti che tra che sto scasando quindi la casa è tutta in dc di sibuglio di sibuglio guarda mio fratello mi ha detto sempre scrivi ma non solo mio fratello scrive un libro dove dici le parole strane che ti escono di sibuglio che c'entri si buongendo un cazzo comunque va bene allora io volevo dire celentano io lo amo tantissimo e a me è il porco dire la madonna di cristo non so perché questi giorni mi avevano associato a questa pubblicità siccome la televisione ce l'ho spenta smorta proprio perché io non lo sopporto e mi sono informato e ho detto scusa ma ce l'hanno che sta a fare questi giorni sta a fare un programma quale e quella sì ma hanno detto sta a fare un programma no stava andando una pubblicità che alza i decibel si è detto beh qual è il problema se non volete vedere stutatela cioè fermatela non spegnetela e invece io sono andata a vedere non ho capito niente comunque non ho capito che sta a fare che non sta a fare però è un grande è un grande perché per me quando io poi ho capito perché io sono un po ritardata pure ci faccio prima a dire quelli che non sono luce ho capito che mi avevano messo in un sito ne sa c'è una cosa trecci ci aveva messo a me mangiò il celentano io perché forse io strillo non lo so strillo un pochetto quando io ho scritto porco ti è la madonna di cristo io ti amo celentano ti amo ti adoro perché io quando canto la canzone ce l'ho in celentano proprio non riesco a fare manco un dico non lo so l'emozione non ha voce io quella persona l'amo come personaggio non come persona come come uomo anche perché è una grande personalità credo è pure una bella moglie per i figli una bella famiglia che non ha mai dato adito a chiacchiere a tutti i cazzi tutti tutti i tresci di merda allora praticamente questa persona e cioè gli state dando a porca dio tutti addosso per modo ho capito quando io ho scritto ti adoro ti ammiro ma ne levate ma grazie a dio perché stare in un tresce non è che gli state dando del tresce a porca ma vi rendete conto dare del tresce a celentano cioè voi state fuori di testa a me porco dio la madonna di cristo uno mi ha detto vabbè puttana vabbè cose che magari forse la mamma gli ha insegnato a dire queste parolacce puttana non si dice a una donna a qualsiasi donna e meno a chi lo fa si dice perché comunque se lo fa è un lavoro quindi non si dice non si danno in questi giudizi e fammi un io ti darei una cosa c'è delle persone veramente le terie e queste forse vedono programmi tresce ma celentano è rock e essere una persona a porca dio a porca dio essere una persona rock significa che una persona che sta al di là delle righe che sta al di sopra delle righe che riesce a fare quello che vuole no mo è no mo riesce a fare quello che vuole e non fregarsene nulla del giudizio degli altri di quello che pensate voi di quello che pensiamo noi cioè io credo una cosa se non vi piace una persona non la vedete ma le parole cioè le parole perché il fiato non costa non serve passate avanti state superiori siamo nel 2019 lui sta avanti sta avanti a tutto quello che sta bella settata e ha sentito tutte quelle cazzate ma manco manco senti quella fatto non ha manco sentito quello che abbiamo detto perché sicuramente lui sa che è una persona intelligente e quello che fa lo fa con il cuore anche perché tutte le film che ha fatto e tutte le parole c'è tutte le belle canzoni che ha fatte ma voi le metti che celentano ma prima fate quello che fa celentano e voi lo potete giudicare ma manco tanto perché non si giudica ma dove cazzo mi presentete e sempre apprese in colinesi non giusol mo ho voluto dare una mia opinione su celentano e che cazzo non avete tante di parolacce ma di una persona più matura di noi che comunque ha fatto un porco di ai un pezzo di storia della televisione ma dove dove presentete voi dove presentete voi a ter di dietro una tastiera di computer dove c'è noi dove ci presentiamo a scriver di celentano ma scrivete solo bene o di di altre persone dove cazzo andate c'è ma perché niente a fatia perché non fate l'amore perché non andate in un parco a fare giochi perché non conoscete gente dialogatevi co relazionate perché non prendete un canno e lo abbracciate porco di capelli down perché non andate da un amico gli dice ha bisogno di una mano ecco facetci cosa che non facete ricattivo perché non serve ciao a tutti